I colleghi docenti in questi primi due mesi dell'anno sono stati chiamati a svolgere due compiti. Il primo è scaduto qualche giorno fa e riguardava la richiesta delle priorità per quanto concerne l'organo di potenziamento che sarà oggetto di assunzioni per quanto concerne la fase C del piano straordinario. A differenza di quanto si pensava in un primo momento, le scuole erano pure di inserire delle vere e proprie classi di concorso in base alle loro esigenze, ma hanno dovuto elencare una serie di priorità, erano sei per la scuola primaria e la scuola media, sette per quanto riguarda la scuola secondaria e in base a queste dati che sono a fase di domanda e quanto non c'era nella fase C, ci sarà una distribuzione di questi 55 mila posti nella livello nazionale della fase C nelle singole scuole. Cosa significa questo? Significa quello che noi avevamo già detto tanto tempo fa, che questo piano di assunzioni non risponde pienamente alle richieste delle scuole. In barba alla tanto vantata autonomia, in questo caso si è ridotta ad un mero elenco di priorità che non verrà rispettato. È anche intuibile capire questo fatto perché pochi giorni dopo, se non poche ore dopo che i colleghi docenti hanno mandato ai vari OSR i loro elenchi di priorità, erano già pronti la distribuzione di questi posti a livello provinciale, a livello di classi di concorso, perché era evidente che, visto che nella fase C le domande erano 45 mila e la maggior parte di queste erano su classi di concorso in cui posti negli ultimi anni in organi di diritto non c'erano, le richieste e le esigenze delle scuole invece andavano sempre in quanto concerne quelle classi di concorso in cui non c'è nessuno. È ovvio che non c'è la corrispondenza tra la richiesta della scuola e la disponibilità dei oratori, alla fine di tutto verrà fuori che a prescindere di tutto ciò che è stato il collegio straordinario, gli interventi, le discussioni, i piani organizzativi e quant'altro, il piano di potenziamento si isolverà in una distribuzione più o meno a pioggia di chi si trova nel fatto man per far parte della fase C a prescindere di quello che si è stato chiesto nelle scuole. Ovviamente questo è un modo come un altro che possa significare che chi andrà assegnato nelle singole scuole, di questo ovviamente siamo contenti perché effettivamente non è che ci lamentiamo di qualcuno che ha assunto il ruolo oppure no, però non è questo il modo migliore perché in questa maniera chi verrà assegnato alle scuole farà da tappa bucchi sia per quest'anno perché l'organico di potenziamento è in vigore solo e soltanto per quest'anno ma anche gli anni successivi perché una volta che si ha assunto il ruolo e non si è legati direttamente alle richieste delle singole scuole e le scuole dovranno utilizzare queste persone meramente per supplenze. Non è questa appunto la buona scuola. La buona scuola dovrebbe nascere dalle richieste effettive delle scuole e trovare soluzioni per andare appunto a trovare la giusta sistemazione. Qui invece partiti da un'impalcatura virtuale ideale e in base a queste impalcature virtuali ideate da chissà chi si cerca appunto di tappare i buchi perché la facciata deve essere quella appunto illustrata e non quella reale. Ma il problema è che in questa maniera non vengono assolutamente risolti. Sono tante classi concorso totalmente vuote che non hanno candidati nel grattuale risolvimento e necessariamente sarebbe stato più opportuno aprire questa possibilità anche a chi è abilitato e si trova in seconda fascia e ha i 36 mesi di lavoro come viene detto appunto dalla Corte di Justizia Europea. Siamo ancora in un problema aperto e sicuramente questo verrà prima o poi verrà appunto messo al pettine.